63 edizioni della storica Rassegna Ovini di Campo Imperatore, anche quest'anno grandi presenze, tanti allevatori con oltre 10.000 capi di bestiame assieme a produttori e artigiani, l'iniziativa organizzata e finanziata dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Due giorni per incontrare allevatori e produttori delle aree interne, per conoscere e assaggiare i prodotti dell'attività pastorale e degustare le tipicità gastronomiche dell'entroterra abruzzese, ma anche per fare incontrare gli allevatori con le istituzioni. Siamo con Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. 63 edizioni, la Rassegna degli Ovini di Campo Imperatore è un punto fermo per le attività della Camera di Commercio, per mettere in luce tutto un mondo al quale tenete molto Presidente. Sì, effettivamente, come ha detto lei, è una manifestazione oramai rodata, storica, siamo alla 63esima edizione, però sicuramente stiamo facendo un rilancio particolare del segmento agricoltura per quanto di competenza, ovviamente. La Rassegna degli Ovini di oggi segue anche quella di Piane Roseto e quindi come Camera stiamo investendo parecchio sul segmento agricoltura perché è un segmento nel quale crediamo, anche i numeri ovviamente ci danno un occhio di riguardo a cui dobbiamo appunto, che dobbiamo porre. E effettivamente comunque il 20% circa dell'economia proviene anche dall'agri-food, dall'agricoltura e quindi noi con questa consapevolezza vogliamo appunto attenzionare sempre più il segmento, gli allevatori e oggi è un po' una vetrina per loro, per noi tutti come Regione e vogliamo appunto rilanciare comunque questo settore e anche il ruolo della pastorizia, dei pastori che mai quanto adesso ha necessità comunque di un'attenzione particolare da parte della politica. Ecco, la pandemia ci ha abituati a un turismo diverso anche a una riscoperta dei nostri territori, dei nostri prodotti tipici che provengono proprio da questi allevatori poi. È un momento buono per investirci, per fare progetti, per far crescere il settore e per invitare anche i giovani che spesso non amano questo tipo di lavori. Sicuramente è un momento in cui dobbiamo supportare questo settore anche perché come tanti altri purtroppo c'è il problema del cambio generazionale, c'è il problema della informatizzazione che magari tende a mancare e quindi c'è il problema comunque anche della forza lavoro che non è mai troppo. Quindi anche in questo senso sicuramente è il momento buono per rilanciare ulteriormente il tutto anche da un punto di vista di formazione per l'appunto e così come oltremodo ci richiede il settore. Speriamo comunque che per il futuro possa essere ulteriormente rilanciato ma credo che questa sinergia che abbiamo messo in campo anche con la regione che non è casuale è proprio per creare uno zoccolo duro per supportare queste attività e credo che gli enti insieme possano fare comunque la differenza perché l'imprenditoria ovviamente di mestiere fa questo, cioè fa gli imprenditori, però il supporto del pubblico in maniera coordinata può fare la differenza. Siamo con il sindaco di Castel del Monte Matteo Pastorelli questa è una rassegna ormai consolidata, 60 tradizioni quanta è importante per il vostro territorio e per le attività connessi ovviamente al territorio? Questa rassegna ha molti significati quindi a parte puntare l'attenzione, un giorno di festa però per ricordare l'importanza degli allevatori abruzzesi che generano ancora un'economia molto importante per la nostra regione però è anche un giorno di festa e di dimostrazione delle nostre tradizioni del nostro orgoglio quindi praticamente 63 anni di rassegno a vini sono il proseguo e la dimostrazione all'esterno che qui questa attività è ancora viva e può essere tramandata anche nel futuro chiaramente con tutte le difficoltà moderne di queste attività tutte le nuove leggi, le nuove PAC che magari fatte in altri territori pensate in altri territori che magari non tengono conto di tutte le specificità del nostro territorio è anche un momento di confronto con le autorità tutti gli addetti ai lavori, imprenditori, associazioni di categoria stessa Camera di Commercio che ringrazio per l'impegno nell'organizzazione quindi è un momento di confronto per poter indirizzare le future azioni a sostegno dei nostri elevatori Sindaco, la pandemia ha portato verso una riscoperta dei nostri sapori delle tradizioni anche di un turismo più sostenibile e molti diciamo che hanno scelto i vostri territori quindi è un momento buono anche per investirci diciamo così è un momento ottimo perché con tutto il male che ha portato comunque questa pandemia ha dato modo di scoprire dei luoghi che prima magari erano un po' diciamo dimenticati non al grande pubblico invece adesso sono stati riscoperti quindi Castel del Monte e tutta l'area dei paesi vicino Calaccio, Santo Stefano di Sestagno, Navelli, Castel Vecchio Valviso sono dei borghi fantastici e hanno delle peculiarità che noi abbiamo il dovere di far conoscere noi non puntiamo chiaramente al turismo di massa e al turismo al grande pubblico che non siamo nemmeno in grado di sopportare però abbiamo il dovere di farci conoscere di far conoscere le nostre peculiarità perché sono cose che ci rendono orgogliosi di poterle raccontare Ruggero Damiani è un pastore di Bariciano che fa la sua attività qui nella Piana di Campo Imperatore quante pecore ha? Sulle 850 Quanto è difficile questo mestiere oggi? Non è difficile noi l'abbiamo sempre fatto per noi è una cosa normale fare questo mestiere l'abbiamo fatto da piccolini La sua giornata come si svolge? Come si svolge? Cominciamo la mattina, te ne vai a pascolare e rientri la sera piano piano intorno alle pecore Lorenzo Damiani è un giovane pastore ecco la pastorizia, il pastore è un mestiere che i giovani non vogliono fare a te da che nasce la cosa? Nasce chiaramente dai miei avi siamo ormai con me, sono quattro generazioni in famiglia che abbiamo questa attività che portiamo avanti questo mestiere quello che mi spinge a portarla avanti è solo la passione Ecco, quanto è sacrificata la tua vita di ragazzo, di giovane di 28 anni? Molto, molto perché comunque qualsiasi giorno sia dell'anno il tuo primo pensiero è andare ad accudire gli animali poi viene tutto il resto, che sia Natale, Pasqua, qualsiasi tipo di giornata anche nelle cerimonie familiari comunque cioè prima l'accudire gli animali però dato che è una vocazione, una mia passione non sento mai il peso del mio lavoro Voi avete realizzato anche un consorzio? In realtà è una cooperativa siamo ormai sei soci, siamo rimasti e lavoriamo insieme il formaggio trasformiamo il latte dato che siamo tutti più o meno della zona anziché magari fare dieci caseifici nel raggio di dieci chilometri abbiamo pensato di farne uno per tutti per chiunque voglia far parte La rassegna è stata inserita quest'anno nel programma della transumanza che unisce, organizzata dal Consiglio regionale d'Abruzzo proprio a sottolineare l'importanza di questa storica rassegna La regione sta facendo un complesso di iniziative intanto sta partendo il nuovo PSR con i nuovi bandi anche se sul tema degli allevatori e della pastorizia soprattutto degli ovini c'è una limitazione che nelle politiche europee sta provocando da parte del settore delle preoccupazioni noi stiamo anche, ne ho anche parlato con il ministro Lobrigia con il sottosegretario Teramo il ministero sta cercando di valorizzare tutti gli aspetti positivi possibili per evitare che questa nuova politica agricola europea possa creare una penalizzazione per un settore vino che per l'Abruzzo è molto importante settore che noi vogliamo rilanciare sapete che c'è una riflessione, una discussione in corso un tavolo che io ho stimolato già da due anni a questa parte per mettere insieme allevatori, produttori, industria della trasformazione partendo da una considerazione in Abruzzo si trasforma carne di pecora a cominciare dagli arrosticini che sono l'evento più noto della nostra gastronomia tipica in misura cinque volte maggiore di quella che si produce sul territorio dobbiamo cercare di fare di questo elemento un elemento di forza che moltiplichi gli allevamenti c'è appunto la potenzialità di moltiplicare perenne volte gli allevamenti e il numero di pecore allevate in Abruzzo e qui trasformate per fare un prodotto di qualità un prodotto che sia anche geograficamente ben identificato su questo c'è una discussione che io spero a breve possa trovare la sintesi perché non è facilissimo conciliare le esigenze degli allevatori con quelle dell'industria della trasformazione con la filiera agricola in generale perché poi tante pecore significa più pascoli, più foraggio insomma è tutto un sistema che va messo in funzione e io spero che però questo confronto e questo tavolo che abbiamo stimolato possa dare risultati positivi all'Atele stiamo valorizzando la cultura della pastorizia a partire dalla transumanza dopo il riconoscimento UNESCO il festival della transumanza affidato alla direzione artistica di Ambrogio Sparagna che credo di poter dire sia davvero il numero uno nel mondo artistico dal punto di vista del recupero e della valorizzazione delle tradizioni popolari la notte dei serpenti affidata alla direzione di Enrico Melozzi ha fatto conoscere e sta facendo conoscere al grande pubblico la nostra tradizione compresi i dialetti abruzzesi la musica, i canti, le danze che sono principalmente nate intorno alla cultura e alla tradizione della pastorizia e del mondo contadino quindi associamo appunto a una valorizzazione culturale e turistica del prodotto il sostegno dal punto di vista economico e produttivo Alfonso Raffaele, presidente Coldiretti L'Aquila come giudica questa manifestazione che ormai da 63 anni la Camera di Commercio mette in campo per mettere anche a confronto, a dialogo quello che è il mondo della pastorizia dell'allevamento dell'agricoltura con le istituzioni? Allora, buongiorno innanzitutto questa è una manifestazione che non ha bisogno di presentazioni come giustamente avete citato voi da oltre 60 anni vive questo momento bellissimo per la nostra provincia e quindi non ha bisogno di essere giudicata se non da questo parterre che abbiamo da questa rassegna che ogni anno si arricchisce sempre di più e quindi nulla, nulla di più da dire dobbiamo far sì in modo di valorizzare le nostre risorse che sono la zootecnia abruzzese questo lo dobbiamo far passare deve essere un messaggio chiaro alle istituzioni al mondo che ci gira intorno che dobbiamo far passare un messaggio netto e sincero del fatto che abbiamo delle aziende zootecniche di tutto rispetto e abbiamo la peculiarità delle nostre carni non sono secondi a nessuno anzi e quindi tutto questo deve passare come un messaggio di apertura nel mondo zootecnico nei confronti del mondo zootecnico alla quale questa manifestazione ci porta anche a livello non solo regionale non solo provinciale ma a livello anche italiano insomma è un orgoglio avere queste manifestazioni qui nella nostra provincia per fortuna ci siamo arrivati abbiamo superato l'impasse del 2020 e del 2021 con la Camera di Commercio abbiamo tenuto fermo il punto e adesso dobbiamo cercare di mantenere anche la presenza degli allevatori perché purtroppo il settore sta subendo un periodo di crisi profondo e quindi dobbiamo riportare la speranza nell'ambito del settore degli allevatori di questi che sono dobbiamo considerare ancora gli ultimi eroi di questo territorio perché se non ci fossero loro queste belle montagne forse non sarebbero più così voi siete produttori del Bazzano quindi locali che prodotti avete nella vostra azienda? allora in primis il mais nero che è diventato ormai famoso il mais nero è una qualità di mais che ho riscoperto io ho ritrovato io riqualificato e ripulito perché si era ibridato e con il mais facciamo i biscotti e facciamo la birra e poi abbiamo la pasta fatta con il grano aquilano e poi c'è la collega dell'area forte che fa cipolle, aglio e trasformati e niente quindi questi sono i nostri prodotti tutti al naturale ovviamente senza utilizzo di componenti chimici per la produzione agricola queste occasioni sono importanti per mettervi in vetrina per incontrare altri produttori le istituzioni ecco la gente apprezza c'è una riscoperta dei prodotti naturali chilometro zero? assolutamente sì anche qui oggi nonostante il tempo e nonostante purtroppo le previsioni non sono andate come volevamo però come si può vedere in giro le persone ci sono e soprattutto apprezzano molto i nostri prodotti quindi va benissimo queste iniziative e ce ne vorrebbero ancora altre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti